Il mondo è grande e ci sono molti paesi diversi dove si parlano lingue diverse, dove si vive in modi diversi da come siamo abituati noi, anche se condividiamo lo stesso pianeta, la Terra. Dunque dobbiamo imparare a prenderci cura di noi stessi, degli altri e della nostra casa, la Terra. Ed è per questo che i paesi che si sono riuniti nell'organizzazione delle Nazioni Unite attorno a un grande tavolo hanno discusso su come risolvere i problemi del mondo. E così hanno creato l'Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi globali. Globali vuole proprio dire che riguarda tutto il globo, tutto il mondo e le persone che lo abitano, proprio come te. Gli obiettivi globali servono per trasformare la Terra in un posto migliore in cui vivere, per tutti e per tutte. L'ultimo obiettivo globale è il numero 17 e ci ricorda che per essere tutti felici sulla Terra, dobbiamo lavorare insieme per salvare noi e il nostro pianeta. Hanno aggiunto un obiettivo proprio per voi, per chiedervi di dare una mano. Voi bambine e bambini siete gli ambasciatori di tutti gli obiettivi globali. Già adesso state costruendo il vostro futuro un passo alla volta con chi vi è vicino. Se hai guardato alcuni di questi video, probabilmente già sai che c'è molto che puoi fare per rendere il mondo un posto migliore. Se non hai guardato gli altri video, corri a farlo, così puoi imparare un po' di più su quello che puoi fare e puoi coinvolgere i tuoi amici, le tue amiche e i tuoi familiari. Che bello, vero? Bambine e bambini, avete visto quante cose abbiamo imparato con i 17 obiettivi globali dell'Agenda 2030? Mi raccomando continuiamo a lavorare tutti insieme per il nostro futuro e quello del pianeta. Ciao! Obiettivi globali, obiettivi globali anche per te. Insieme quanti siamo tanti, ci stringiamo forza, tutti uniti ci miglioreremo. Ora c'è da fare, ora non mancare, vieni, dai una mano alla nostra terra. Obiettivi globali, cosa sono? Noi, in tutto il mondo uguali, che tesoro! Obiettivi globali, cosa sono? Vieni anche tu, porta chi vuoi tu, insieme noi faremo anche di più!